Venerdì 17 maggio a partire dalle ore 14, sala ipogea del Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Faccia a faccia con l'intelligenza artificiale, la sfida in cantiere. Tre tavole rotonde con esperti del settore per dibattere sull'intelligenza artificiale nel processo costruttivo, nella sicurezza del cantiere, nel bilancio di sostenibilità. Un convegno nazionale del gruppo Centro Italia di Ance Giovani. Un grande appuntamento tutto in diretta streaming su YouTube e sui canali social di Ance Giovani. Alle 18 presentazione del workshop Upcycling in Music, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ILE Architettura e Ambientale dell'Università dell'Aquila e concerto nel colonnato esterno del Palazzo dell'Emiciclo. Autore dei sottotitoli e Berlusconi Grazie a tutti